No, pensavo fossi più grande. Eh sì, me lo dicono tutti. Ok, scusa, riproviamo. Ok, inizio. Hai visto le facce che hanno fatto? Hai visto? Quando la neva traccherò. Jack e Rose, ma che carini. Ragazze, perché non proviamo anche noi? Sì, esatto, proviamo. Luca, scusa, posso parlarti un attimo? No, dopo. No, stiamo provando. Dopo magari. Ora. Sofia, per favore. Eh sì, perdonaci, ne stavo riparando il dialogo e tra poco... Io sto parlando con Luca. Sì, ma Luca stava parlando con me. Ma che vuoi, scusa? E tu che vuoi? Sofia, basta. Eh, lei non dici niente. Tu sei... Dopo parliamo. Allora adesso proviamo. No, non credo. Ecco, perché sono single. Ah, sei single. Non per molto. Muoviti, ripetiamo. E vogliamo soltanto? Emma, che ci fai qui? Hai seguito il mio consiglio. Il mio? Non lo so. Muo vediamo. Quindi non state più insieme? No. E a te non va giù che lavori un dialogo romantico con Greta? Sì, fai parlare Sofia. Non voglio parlare. Visto? Senti, io lo so che non deve essere bello vedere il proprio ex tra le braccia di un'altra. Ma quello che posso dirti è che è tutto finto. Sta recitando. E magari per interpretare al meglio, Luca pensa a te come sua rosa. Sì. Vuoi tornarci insieme? Cresci. 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 Grazie a tutti.